Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato Tg. Purtroppo apriamo il telegiornale con un altro caso di violenza sulle donne. È successo ieri a Iolo, dentro l'ufficio postale del quartiere dove una donna di 34 anni si era rifugiata per sfuggire al compagno che la stava picchiando. La notizia arriva alla vigilia dell'iniziativa della Questura che per San Valentino, come ogni anno, porta in Piazza Duomo il camper per la campagna. Questo non è amore. Il servizio. Si è rifugiata nel vicino ufficio postale per sfuggire alle violenze del convivente, ma lui non si è fermato neanche di fronte agli impiegati e al personale sanitario inviato dal 118 che a stento lo contenevano. Già pensato alla polizia a mettere fine alla sua furia cieca e malata, sono quindi scattate le manette in flagranza di reato per un 43enne pratese pluripregiudicato per reati di varia natura e anche per maltrattamenti alla compagna, una pratese di 34 anni. I fatti si sono svolti ieri attorno alle 13 nell'ufficio postale di Iolo in via di Bellincione. L'uomo dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. La compagna, che in passato aveva già denunciato le violenze subite, ha riportato ferite giudicabili guaribili in 5 giorni. L'ennesimo brutto episodio che vede come vittima una donna arriva alla vigilia dell'iniziativa che la Polizia di Stato organizza ogni anno in occasione di San Valentino per favorire l'emersione della violenza di genere. Domani, a partire dalle 10, la questura sarà in piazza Duomo con un gazebo per la campagna Questo non è amore. Sarà presente personale specializzato sia per dare informazioni che per accogliere eventuali denunce grazie all'immediata vicinanza del posto di polizia Prato Centro. All'iniziativa prenderanno parte gli studenti e gli insegnanti delle scuole superiori pratesi e gli operatori delle reti antiviolenza senza veli sulla lingua e del centro lanare. E purtroppo anche oggi la banda del Tombino è tornata a colpire e lo ha fatto prendendo di mira nuovamente il circolo di Maliseti Quinto Martini tentato furto anche a Montemurlo. Ci spiega tutto Alessandra Grati. Non si ferma la banda del Tombino. Dopo l'escalation di furti di ieri, anche questa notte, i malviventi sono entrati in azione. Nel mirino è finito di nuovo il circolo Arci Quinto Martini di Maliseti che già qualche mese fa aveva subito un furto analogo. Stanotte verso le due sono venuti qui con un tombino, hanno spaccato il vetro e hanno rovistato nella cassa sciopando tutto e quindi prendendo quei pochi spiccioli che c'erano in cassa. Questi signori qui di fronte, pare che qualcuno abbia visto addirittura tutto, abbia chiamato la polizia e abbia segnalato alla stessa polizia l'accaduto. Sì, abbiamo le telecamere all'interno, le telecamere all'esterno, tant'è vero che quella telecamera è stata spostata per evitare la ripresa eventualmente frontale. Quella di Maliseti non è stata l'unica spaccata. Anche il bar Laura, che si trova al centro commerciale della Coppa di Montemurlo, è stato preso di mira dai ladri. Però il colpo non è riuscito. Praticamente hanno provato a entrare con dei ladri, praticamente un ragazzo con una 600 rossa, alle 1 e un quarto di notte, con un tombino ha provato a sfondare il vetro, ma essendo antisfondamento non ci è riuscito. E niente, stamattina sono stato avvisato dal mio fornaio e quando sono arrivato c'era la sorpresa di carnevale. Abbiamo le telecamere, abbiamo fatto vedere i carabinieri, hanno visto che devono essere un soggetto che già conoscano e quindi si stanno dando da fare per capire un po'. Un ventenne di Vaiano è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato controllato in via Bologna da una pattuglia dei militari della tenenza di Montemurlo ed è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione e occultati negli slip di una sessantina di grammi di marijuana. È stata quindi disposta la perquisizione domiciliare nella casa della Briglia dove il giovane abita e sono state trovate nascoste nel cassettone dell'avvolgibile di una finestra della sua camera da letto altre due buste di sostanze stupefacente del peso complessivo di 160 grammi mentre altri 6 grammi erano nascosti nel cassetto del comodino. Acquista online un'assicurazione ma si tratta di una truffa che è stata scoperta dalla Polizia Municipale di Montemurlo attraverso il dispositivo del Targa System. Alessandra Grati 350 euro per la copertura assicurativa di 4 mesi, una procedura semplice per attivare il contratto, un agente a disposizione sempre. In teoria è una condizione favorevole, in realtà una truffa online che è stata scoperta dalla Polizia Municipale di Montemurlo grazie all'utilizzo del Targa System, il sistema che in tempo reale controlla che le vetture sia assicurate e revisionata. Abbiamo invitato uno di questi cittadini a presentare i documenti per dimostrare l'avvenuto pagamento o comunque l'avvenuta copertura e lui ci ha presentato in effetti un documento che però era falso. Da qui è iniziata un'indagine dalla quale è emerso che ci sono tantissimi siti online che promettono delle polizze anche temporanee, che addirittura giornaliere però sono di fatto dei siti fasulli, dei siti che non sono ricompresi nell'elenco dell'Ivas. Il fenomeno delle false assicurazioni online è in aumento esponenziale, soprattutto negli ultimi due anni. Si offrono a buon mercato coperture assicurative anche di un giorno. I cittadini tendono chiaramente a cercare offerte anche a basso costo delle assicurazioni quindi si fanno, diciamo, a calappiare anche da queste offerte online un po' come si diceva c'è anche una facilità nell'accedere poi alla polizza. Stiamo cercando appunto di divulgare il più possibile informazioni che possano difendere il cittadino. La prova del 9 è abbastanza semplice da fare. Ci si può collegare al portale dell'automobilista, sito ufficiale del Ministero, digitare il proprio numero di targa e attendere il verdetto. La nostra polizia municipale in questo caso non è solo quella che fa le multe fa anche un'azione di prevenzione, di controllo e soprattutto per smascherare questi casi emblemati di truffa nei confronti delle persone ignare. Carambola di auto questa mattina intorno alle 10.15 in via Melis a Malisetti poco prima del confine con il comune di Montemurlo tra le auto coinvolte, tre le auto coinvolte e due i feriti compresa una donna in stato interessante che è stata portata al pronto soccorso per accertamenti in ospedale anche un 38enne per fortuna nessuno dei coinvolti in gravi condizioni anche se il 118 ha inviato i mezzi in codice rosso sul posto la municipale che ha anche chiuso provvisoriamente la strada per permettere i soccorsi e per poi rimuovere i mezzi incidentati. Secondo una prima ricostruzione l'incidente sarebbe stato provocato da un'auto che prima ha tamponato quella che la precedeva e poi ha invaso la corsia opposta facendo un frontale con la terza auto coinvolta. Parliamo di economia ora perché la Camera di Commercio ha diffuso i dati del 2017 ebbene il numero di imprese diminuisce di circa 200 unità. Sentiamo. Cala il numero di imprese, continua la crisi del settore edile e diminuiscono le società di persone. I dati sono evidenziati dall'indagine annuale sulla demografia imprenditoriale realizzata dall'Ufficio Studi della Camera di Commercio di Prato sui numeri del 2017. Le aziende attive iscritte al registro imprese al 31 dicembre sono 28.858, 199 in meno rispetto al 2016. Il saldo negativo tra iscrizioni e cessazioni ha determinato una leggera flessione del tasso di crescita sostanzialmente in linea con quanto riscontrato a livello medio regionale. Contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi anni all'andamento negativo del saldo totale ha contribuito la quasi totalità dei settori. Male ma non è purtroppo una novità le costruzioni e inflessione anche il manifatturiero e il comparto commercio-turismo. Sostanzialmente stabili invece il settore dei servizi e l'agricoltura. A riequilibrare il quadro, il comparto delle confezioni che torna a crescere dopo la battuta d'arresto del 2016 e la tenuta sia delle attività informatiche sia dei servizi alla persona. Per quanto riguarda la forma giuridica, rispetto all'anno 2016 risultano in crescita solo le società di capitali. Calano invece le società di persona, le ditte individuali e le altre forme. C'è tempo fino al 28 febbraio per presentare la domanda di ammissione al bando di selezione di Estra per un impiegato da inserire nell'area amministrativo contabile. Oltre alla laurea magistrale in discipline economiche si richiede anche un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel coordinamento di attività amministrative in azienda nell'area contabilità e bilancio, società di revisioni. Ottima conoscenza delle normative civilistiche, fiscali ma anche principi contabili italiani e internazionali. Patente, buona conoscenza della lingua inglese e dei vari programmi informatici. Poi sul sito di Estra trovate tutto il dettaglio. La domanda deve essere redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato al bando indirizzata a Estra SPA via Ugo Pansiera numero 16 Prato e deve pervenire naturalmente entro e non oltre il 28 febbraio. Cambiamo pagina, parliamo di cultura perché a giorni chiude la mostra dedicata alla cintola della Madonna e per l'occasione il biglietto. Sarà a 3 euro. Chiuderà i battenti definitivamente domenica 25 febbraio legati da una cintola. L'esposizione temporanea di Palazzo Pretorio che a poco più di dieci giorni dalla chiusura sta per archiviare una stagione di successo inaugurata lo scorso 7 settembre. Oltre 19 mila i visitatori attraverso 60 opere con importanti prestiti da musei nazionali e internazionali la mostra ha raccolto il consenso di pubblico e di critica e intessuto un racconto ricco di fascino grazie a un processo scientifico accurato un allestimento suggestivo chiaro e funzionale che testimonia e ricostruisce l'iconografia di un tema quello della Madonna che dona alla cintola la reliquia custodita nel Duomo di Prato. Per festeggiare il successo dell'esposizione da domani l'ingresso sarà al prezzo particolare di 3 euro un'occasione per tornare a visitare una mostra che ha potuto giovarsi di prestiti importantissimi dal Metropolitan di New York ai Musei Vaticani dal Pol di Pezzoli di Milano alla Galleria Nazionale di Parma e ancora a Villa Guinigi di Lucca il Museo Nazionale di San Matteo di Pisa e la Pinacoteca Nazionale di Siena. Entro l'anno, spiega l'assessore alla cultura Simone Mangani pubblicheremo gli atti del convegno legato all'esposizione. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.30, martedì escluso. Ed era l'ultima notizia, vi ringrazio di averci seguito vi auguro una buona serata, ci vediamo domani.